E' stato forse uno degli interventi più emozionanti, forse la stanchezza della ricerca di tutta la notte che ti ha fatto emozionare ancora di più, però bellissimo. E' tra la commozione generale che si tira un sospiro di sollievo. La bambina di 9 anni scomparsa ieri sera in zona Ponte alla Nave in provincia di Arezzo è stata ritrovata questa mattina dopo aver trascorso una notte a Girovagare in campagna. La piccola è stata individuata in una sponda del canale Maestro sotto un ponte, sarebbe in buone condizioni. E' stata recuperata dai vigili del fuoco che si sono calati dentro al canale ed affidata alle cure dei sanitari del 118. A dare l'allarme ieri sera la mamma della bimba era così scattata un'imponente azione di ricerca. Impiegati tutta la notte uomini della polizia, dei carabinieri, dei carabinieri forestali e dei vigili del fuoco. In azione anche i cani molecolari e in volo l'elicottero dei vigili del fuoco. L'ultima volta che la bambina era stata vista dalla madre era nei pressi di un annesso agricolo nella campagna. Poi la bimba si era allontanata mentre i giovani effettuavano alcuni lavoretti e di lei si erano così perse le tracce. Da ieri sera alle 10 in quarto che abbiamo ricevuto la chiamata dai genitori della bambina, abbiamo approntato la procedura che di solito facciamo in questi casi. Dopo tutta una notte di ricerca siamo riusciti stamattina a individuarla all'interno del canale. La svolta sarebbe arrivata grazie alla segnalazione di una signora residente nella zona che aveva visto la bimba ieri sera fare il bagno nel canale che questa mattina ha comunicato alle forze dell'ordine quanto visto. Lì per lì c'era una macchina dalla parte della strada, diceva lei è venuta con la macchina e è andata a fare il bagno, niente. Io mi sono allarmata quando stamattina ho aperto Facebook e ho visto che stavano cercando questa bambina che era stata persa. Per me era una ragazza di 18-20 anni così che era a fare il bagno normalmente. Perché ha visto che noi si guardava e era così felice. Non è che aveva i vestiti che chiedeva aiuto. Se avesse avuto i vestiti poteva un attimino. Però era tranquilla. Dopo invece c'è stato un problema dell'ansia, di tante cose. Che io se non fosse andata che era viva non me lo sarei perdonato.